Incontri bilaterali alla Quirinale tra il Presidente Mattarella e i capi di Stato di Malta, Finlandia, Irlanda e Ungheria. Luciano Gelfi. È l'ideale coda del vertice di Ieghi del gruppo Arraiolo se il giro di colloqui di Mattarella con i Presidenti della Repubblica Europea e i suoi ospiti a Roma. Al Quirinale si confrontano idee non sempre coincidenti sul futuro dell'Unione, ma lo sforzo è fare passi avanti. Quel salto di qualità invocato proprio ieri dal nostro Capo dello Stato. Con il Presidente Maltese Vella, ampia convergenza su Libia e Mediterraneo, con lo scottante tema della gestione dei flussi migratori in primo piano. Una preoccupazione condivisa anche con il Presidente irlandese Higgins, con cui Mattarella ha parlato anche degli effetti della Brexit e dell'evoluzione dei rapporti con la Gran Bretagna. Poi il colloquio con il Presidente Ungherese Ader, che ieri è invitato a non forzare troppo sull'ampliamento della sovranità perché l'Unione intervenga solo quando gli Stati non ce la fanno da soli. Al contrario, sintonia sulla necessità di estendere la sovranità comune europea con il collega finlandese Nenesto. Il piano Next Generation EU come occasione da non spercare, per fare passi avanti decisivi sul digitale e la transizione ecologica. Al via anche a Roma la somministrazione della... Il piano Next Generation EU come occasione di un'evoluzione delle strade e del'evoluzione delle strade. Grazie a tutti.